La scorsa settimana abbiamo inaugurato la scuola di formazione online. Già sono stati erogati i primi tre corsi e il numero di presenze è stato fantastico perché già ci sono stati in media circa 200 partecipanti a corso, con picchi di 250 partecipanti. Questo ci ha portato a fare immediatamente una programmazione per le prossime settimane che prevede dal martedì al venerdì due corsi ogni giorno. Questi corsi poi saranno estremamente variegati perché saranno su temi commerciali, gestione del gruppo, leadership, temi anche con relatori esterni riguardanti il marketing immobiliare, i sistemi di valutazione e in più anche la parte legale immobiliare per approfondire le tematiche inerenti in questo periodo. Insomma, una scuola di formazione a tutto tondo che sta sfornando tantissimi contenuti. E proprio per questo abbiamo voluto, in questo momento così particolare e impegnativo che stiamo vivendo, fare un qualcosa che non era solito per noi. Noi siamo sempre stati in azienda chiusa, un ecosistema dove nascevi e crescevi in Toscano. In questo momento vogliamo iniziare il momento della condivisione immobiliare. Con tutti gli agenti immobiliari, con tutte le agenzie immobiliari, vogliamo aprire le porte della nostra scuola di formazione online. Quindi tutti quanti potranno vedere i corsi di formazione online. Questo come spirito di condivisione dove ognuno potrà prendere spunti di riflessione da quello che toccheremo come argomenti. Perché poi in fondo la formazione ci stimola, stimola semplicemente quello che abbiamo dentro e che molto spesso già conosciamo, ma ce lo fa tirar fuori. Quindi buona condivisione immobiliare a tutti e io resto produttivo.